Ministro Lamorgese, la festa della donna quest'anno capita in un momento particolarmente complesso per il mondo femminile. Con il Covid esplose la difficoltà di genere, specialmente nel mondo del lavoro. Selva una svolta culturale? Io penso che oggi le donne soffrono in maniera particolare questo momento di difficoltà economica dovuta al Covid. E io ritengo anche che l'eguaglianza economica sia davvero la strada per la libertà di ognuno di noi. La cosa importante è che i diritti vengano riconosciuti non soltanto formalmente ma nella sostanza. Devono essere diritti sostanziali perché solo così si garantisce davvero le pari opportunità tra le donne e gli uomini. Aumentano i femminicidi e aumentano le richieste di aiuto da parte delle donne. Lei come Ministro dell'Interno cosa si sente di poter dire? Io dico sempre che le donne devono avere fiducia nelle istituzioni e immediatamente fare la denuncia perché troveranno le amministrazioni, l'amministrazione dell'interno, le forze di polizia, la magistratura pronte a raccogliere la prima richiesta d'aiuto. E da oggi è in funzione un altro sistema interforze che si chiama Scudo con il quale immediatamente si riescono ad acquisire notizie dell'ambito familiare nei casi di violenza domestica. Lei preferisce essere chiamato Ministro o Ministra? Guardi, io non do rilievo a come mi chiamano. La cosa importante è che ognuno di noi viene riconosciuta per il ruolo che svolge e per come lo svolge e per quello che riesce a dare. Grazie.